Viena, all'inizio del ventesimo secolo, era molto conservatrice. Gustav Klimt era un tipo strano. Era un rivoluzionario. Egon Schiele è stato classificato per decenni come uno dei maggiori artisti erotici. La donna non è più passiva, ma emerge. Desideri, pulsioni, nevrosi. Sono intollerabili, uscite. L'ho baciata la tua bocca. C'era un sapore amaro sulle labbra. Era il sapore del sangue. A ciascuna epoca la propria verità e all'arte la sua libertà. Fa un grande effetto vedere l'artista esporsi così. Mostrano il lato oscuro e le molte dimensioni della condizione umana. Nessuna arte al mondo si è occupata così tanto dei sentimenti dell'uomo. Dove porto un bacio? Al paradiso o all'inferno?